Daniele Perello, vi dirigete verso Palazzo del Pincio con Ernesto Tedesco, sindaco. Facciamo una passeggiata con il nuovo sindaco di Civile Vecchia, siamo felici perché sono state giornate dove siamo arrivati tutti estremati, siamo arrivati stanchi e la campagna elettorale è impegnativa. È un risultato importante, siamo felici, evidentemente i programmi di cui abbiamo parlato e la scelta dell'uomo, di Ernesto e la scelta di non andare di fisico dopo gli errori di 5 anni fa che ci avevano quasi portato a vincere le elezioni. Ci portano comunque a questo giorno glorioso, vittorioso e adesso comunque bisogna tirare una linea. Oggi si festeggia, da domani si comincia il lavoro per la città perché le cose da fare sono tante. Sicuramente dovremmo ragionare anche con i nostri oppositori, dovremmo ragionare con tutti quanti perché le urgenze e le scadenze che riguardano tutta la città vanno fuori da quello risultato elettorale. Ricordarci che siamo lì perché tutti quanti ci hanno voluto l'opposizione compresa e ragionare sui temi importanti della città, questo è fuori discussione. Il gruppo prosegue verso Palazzo del Pincio con Ernesto Redesco capofila ovviamente, c'è un po' di emozione? Una grande emozione perché comunque noi abbiamo giocato da persone sportive fino all'ultimo, Ernesto è una persona molto corretta. Noi andiamo avanti, Ernesto oggi è il sindaco di tutti, è carico, ha voglia di cominciare domani mattina e io insieme a lui, in mezzo alla gente, in mezzo alla strada per ridare dignità a questa città. Sindaco di tutti e crediamo che finalmente Civecchia possa rivivere e risentire la politica come un tempo. Giro De Paulis, i voti continuano ad uscire, non arrivano notizie positive per Carlo Tarantino? Sì, era difficile, abbiamo migliorato molto sinceramente perché diciamolo, questo è un minimo di soddisfazione per noi e ce la prendiamo tutta. Abbiamo ricostruito un centro-sinistra che non c'era, non c'era prima della candidatura di Carlo Tarantino, adesso c'è, ci mettiamo al lavoro. Noi faremo un'opposizione attenta, responsabile per la città, è un po' prematura in questo momento, chiaramente c'è un'emotività, è chiaro, non mi sento di sorridere, chiaramente. Auguri al nuovo sindaco, in bocca al lupo ai nostri consiglieri che andranno all'Aula Pucci a fare il loro dovere, al nostro candidato sindaco che sarà il caposquadra loro e vediamo, vediamo se esce qualcosa di buono per questa città. Noi il nostro dovere lo faremo, lo faremo sempre fino in fondo. Ormai è evidente che la sconfitta c'è, ci abbiamo provato a ridare a questa compagine una possibilità di vincita. Le cose non sono andate così, prendiamo atto della sconfitta, onore a chi ha vinto, però adesso ci aspettiamo e ci auguriamo che siano cinque anni distensivi e soprattutto che siano cinque anni in cui questa amministrazione possa garantire la soluzione di molti problemi a Civitavecchia, perché ci sono sul tappeto e sul quale comunque da parte mia e da parte del gruppo civico non mancheranno i contributi. Onore al merito, aspetta loro a governare la città, noi daremo il nostro conto in brutto, l'importante però è che sappiano che le regole valgono per tutti quanti e poi cerchiamo di aiutare Civitavecchia a risollevarsi perché il problema è grande.